ciao a tutti e benvenuti su azalea channel oggi siamo tornati con un nuovo episodio di the sims 4 e siamo qui con jared che vi dà il buongiorno facendo il caffè allora nell'episodio di oggi voglio stare con loro con la famiglia di vita in città e pensavo di dedicarmi un po alle loro aspirazioni perché io un po sono andata avanti per conto mio a portarle avanti però mi piaceva in parte anche farle con voi e volevo approfittare in particolare dell'aspirazione di jared che vuole osservare o ammirare tre dipinti in un museo quindi visto che è domenica e anche i bambini stanno a casa pensavo di approfittare di questa cosa cioè che jared insieme anche a giordano ovviamente decidono insieme di portare un po i bambini al museo approfittiamo di questa cosa per avvicinarli un po di più all'arte perché a entrambi comunque piace l'arte e in questo modo pensano anche magari di come dire educare responsabilizzare un po meglio lucas che guardate qui com'è la sua situazione praticamente lui ormai sta molto rosso sulla responsabilità quindi sta per diventare irresponsabile e quindi magari pensano che in questo modo possa responsabilizzarlo un po di più invece per quanto riguarda gli altri valori caratteriali sta abbastanza bene perché comunque è abbastanza educato una buona risoluzione di conflitti controllo emotivo empatia è abbastanza neutro però responsabilità è sul rosso quindi chissà se riusciremo un po a sistemare questa cosa ma non so vedremo inoltre è passata a lucas la fase da orso che aveva ma gli è venuta questa vena di cattiveria è il momento di essere perfidi senza motivo questo sim si sente odioso non si lascerà sfuggire l'opportunità di essere perfido con altri sim quindi ragazzi direi che tutto sommato è una fase che ci sta in questo periodo della vita di lucas che è un po così ribelle e tutto invece la piccola rescia sta abbastanza bene perché ha quasi tutto verso il verde soprattutto l'educazione e l'empatia quindi un po il contrario del fratello e volevo appunto dedicarmi anche alle ispirazioni proprio di tutti non solo di di jared ma anche di jordan ad esempio che vuole aiutare un bambino a fare i compiti per quattro ore gliene manca solo una poi anche lucas che invece gli manca solo di conseguire il livello 10 di abilità motoria dopodiché ha completato anche la sua aspirazione da bambino quindi stiamo bene e invece rachel vuole disegnare immagini durante lo stato motivo ispirato insomma oggi volevo dedicarlo un po alle loro aspirazioni ma direi di iniziare la giornata con una bella colazione quindi jared bravo prepara il caffè e tu invece vieni qua jordan che abbiamo già la colazione pronta quindi chiamiamo a tavola ci rilassiamo un pochettino ecco jared che si sta bevendo il suo caffè com'è questo chi l'ha preparato eccellente da jordan e brava jordan sta diventando brava anche in cucina vieni jared vieni a bere qua il caffè insieme a tutta la famiglia guardate che carini ho una bella domenica tutti insieme tra l'altro mi sa proprio che jared al giorno libero perfetto jordan lavora però magari la facciamo appunto lavorare da casa così ecco no mi sono sbagliato ho detto vai al lavoro niente ragazzi vabbè semplicemente non ce la manderò tanto sta bene è al lavoro lei cioè vede il rendimento eccellente per cui se non va una volta non succede nulla dai e quindi chiacchieriamo un pochettino dai lascia racconta un po ai tuoi genitori come va la scuola che lei è brava discuti degli interessi ah sì cioè vi vorrei far vedere una cosa sul collo di jordan perché quei due buchi che vedete è successo che praticamente stavo giocando con loro e una notte cioè proprio ieri notte praticamente mi ha fatto visita un vampiro che ha morso la povera jordan non so se ha ancora il mood ecco si vedete è morso recente aia perché mi fa male niente è stata morsa e non ho potuto far niente per impedirlo però per fortuna è tutto qua ecco non è stata trasformata in un vampiro vedete che comunque lucas tutto sommato è educato perché si è messo qui cioè senza che nessuno gli dicesse niente ecco ha lavato tutto quindi almeno l'educazione ce l'ha bravo bravo adesso come stiamo messi possiamo già andare al museo vediamo un pochino ma si dirà che stiamo tutti bene oh guardate vedete che lucas è proprio bravo lui ha questa fase di ribelle però allo stesso tempo non lo so si vede è una fase infantile che è un po' così deve ancora decidere cosa e chi vuole diventare tutto sommato mi sembra normale no jordan non andare al lavoro sì magari però mettiti un vestito normale ah è andata vabbè dai poi ci raggiungerà dopo allora al museo quindi jared andiamo e portiamo i bambini fuori andiamo quindi al museo di will of creek ecco qua ragazzi questo è il museo musee municipali che non è il museo che era già preesistente in questo quartiere ma ne ho scaricato uno io dalla galleria non l'ho toccato guardate com'è bello e imponente proprio a livello tipo del british museum no una cosa del genere visto che comunque ce n'è solo uno in tutto il gioco ci ho lasciato solo questo mi piaceva l'idea di fare un museo bello grande ecco quindi ci andiamo tutti insieme jared e portati lucas crescel e jordan andiamo eccoci qui al museo guardate quanto è bello ben fatto ragazzi ora non mi ricordo esattamente come si chiama il lotto originale chi è il creatore però se poi riesco a ritrovarlo magari ve lo scrivo nell'info box sotto a questo video così magari ve lo potete scaricare intanto vi faccio vedere una rapida panoramica generale di com'è il museo questo è l'ultimo piano dove ci sta essenzialmente una sala in cui potersi esercitare con il pianoforte con la logica eccetera qui da queste parti invece c'è una sala espositiva con delle sculture essenzialmente che sembrano tipo di arte un po' moderna mettiamo i muri tutti tirati su perché alcuni quadri sono appesi alle pareti ecco qua sempre una sala con le sculture poi da questa parte abbiamo invece tutti guardate che bei quadri di vario tipo dai classici fino a quelli più pop art surreali eccetera poi invece scendendo al piano ancora più sotto abbiamo sempre una sala con vari dipinti eccole qui invece qui da questa parte sempre dipinti alcune sculture poi scendendo ancora sotto abbiamo il primo piano in pratica dove qui c'è l'entrata con una specie di reception qui ci sono delle riviste sapete quelle che poi si possono comprare ai musei no? prima di uscire da questa parte abbiamo sempre una sala con le sculture qui invece possiamo trovare sempre altri quadri e invece in quest'altra ala ancora abbiamo sculture e quadri e infine nel museo c'è anche un piano seminterrato in cui qua al centro c'è un piccolo baretto che ci sta assolutamente bene nei musei ovviamente vabbè ci sono i bagni e poi qui c'è una saletta per dipingere vedete sia per gli adulti che per i bambini quindi è un museo interattivo in un certo senso in cui si possono sperimentare anche le proprie abilità artistiche quindi direi Jared prima di tutto però volevo fargli fare una cosa molto carina relativa al suo lavoro se andiamo qui sul telefono ricevendo delle promozioni mi ha dato la possibilità di fare questa interazione mando un saluto da musei municipali in questo modo dovremmo guadagnare un altro po' di followers quindi vai Jared saluta tutti registrati presso questo luogo e poi andiamo a osservare tre quadri guardate un po' ha guadagnato 1750 follower ora ne ha 102.000 quasi 103.000 ragazzi quindi stiamo diventando veramente veramente famosi allora quindi osservo a 1.3 dipinti in un museo ce ne veniamo qua che è la sala dei quadri tutti insieme intanto così Jared si osserva per bene i quadri e li facciamo vedere anche ai bambini sa che magari si possano avvicinare anche loro all'arte da adulti non per forza come ecco mettiamo proprio osserva insieme non per forza come lavoro perché anche come semplice hobby infatti Jared appunto ce l'ha come hobby quello della pittura anche a Jordan piace l'arte ma a livello così insomma oh sì guardate che bello questo quadro rappresenta tipo un fondale marino bello sì sì vedete guardate lui com'è contento di tendenza ah questo è per il saluto che ha mandato Jared sta diventando di tendenza continua così nel mondo dei social media essere di tendenza è indice di eccellenza e poi è contento per aver realizzato un dipinto e per vedere appunto questi bei quadri ok uno l'abbiamo visto adesso guardiamoci anche questo vai osserva insieme che sembra un castello perché qua c'è una torre dell'orologio bambini guardate che bello questo quadro sì sembrano soddisfatti vediamo se piace anche a loro ma a Lucas non è comparso nessun mood al riguardo e a lei sì però arredamento bello e a Lucas niente ragazzi è un po' così al momento non gli interessa molto nemmeno l'arte e da osserviamo l'ultimo dipinto che è questo che sembra un deserto e poi così almeno siamo andati un po' avanti anche con la sua aspirazione ecco qua perfetto anche questa l'abbiamo completata e allora a questo punto farei una cosa visto che stiamo qui e a Jared comunque uh guardate un po' chi c'è ciao Cecilia anche lei è venuta a dare un'occhiata al museo dicevo visto che comunque a lui per salire lo step della pietra migliare deve completare 10 dipinti eccellenti al momento ne ha fatti 6 gliene mancano quindi 4 perciò magari approfittiamo di stare qua al museo che c'è anche un'atmosfera ispirante così li facilitiamo il compito a Jared li facciamo fare magari qualche altro dipinto e intanto i bambini magari anche visto che ci stanno qua i tavoli per colorare li facciamo venire qua e passano un po' di tempo così quindi Jared vieni a dipingere chi è? mi chiama Akira Kibo ti va di passare il tempo insieme stasera? no grazie ma sono quel museo con la mia famiglia quindi Jared vieni qua ci dipingiamo un dipinto classico piccolo così facciamo presto a farlo Lucas lo teniamo un po' impegnato vai a disegnare le forme e anche Rachel ragazzi perché appunto lei comunque ha come aspirazione da bambina prodigio artistico e le manca un'immagine con il tratto emotivo ispirato da disegnare per cui facciamo così attiviamo l'aereomotiva di queste lampade che danno appunto un ambiente ispirato eccolo qua eccola che è diventata ispirata Rachel e le diciamo appunto di dipingere un'altra immagine vai disegna così completiamo anche la pietra migliare di Rachel Jordan tu ma facciamo che mentre loro stanno qua a dipingere Jordan invece si prende oh non c'è il barista però e allora preparata tu una bevanda dai perché non mi va di assumere un barista e spendere soldi prepariamo una bevanda preferita va sono curiosa di vedere che cosa piace a Jordan oh e qui intanto invece i bimbi stanno disegnando dai Jared ha quasi finito spero che sia eccellente sì bravissimo Jared e allora mettitelo nell'inventario perché poi magari li vendiamo e ci facciamo un altro po' di soldini e a questo punto te ne farei anche preparare dipingere un altro di quadro sempre piccolino così facciamo presto stavolta ne dipingiamo uno impressionista ecco qua che ti sei preparata Jordan facci vedere ah sta andando da loro vuole vedere un po' come procede la situazione ecco brava sedi di qua va facci vedere che cosa hai preparato il dolce speziato ok quindi è la bevanda preferita di Jordan è carina anche questa cosa che se dice Sim di preparare una bevanda preferita ognuno ha una diversa come nella realtà quindi mi piace questa cosa anche scoprire cose di Sim che magari non sapevamo neanche noi di gusti dei propri Sim oh perfetto Rachel ha completato il primo step è grandissima oh guardate che carina una nave brava mettitela nell'inventario e anche Lucas ha completato ha fatto una casetta un po' stilizzata bisogna dire che Rachel è stata più brava però eh e vabbè dai mettitelo nell'inventario ah lui ha raggiunto dall'altro il livello 9 di abilità sociale bravissimo allora farei una cosa ragazzi vorrei approfittare di questo fatto dell'atmosfera espirante del luogo per finire proprio lo step di Jared quindi gli mancano altri due dipinti quindi li faccio dipingere magari faccio un taglio del video e vi faccio vedere direttamente il risultato finale perché così almeno andiamo un bel po' avanti con le loro aspirazioni wow Jared ha addirittura dipinto un capolavoro beh si è carino non direi che è un capolavoro però va bene meglio così mettiamoci tutto nell'inventario perché poi vorrò fare un'altra vendita in strada di quadri dipingiamo questa volta beh un dipinto fiducioso va ed ecco qui il quadro fiducioso di Jared guardate che forza c'è la formula 1 con anche la scia delle macchine che vanno a tutta velocità e appunto anche questo era un dipinto eccellente per cui Jared te lo metti nell'inventario e però adesso ce ne torniamo a casa magari l'ultimo lo facciamo a casa perché è tardi infatti Jordan e i bambini li ho mandati a casa anche perché lui poverino deve anche andare in bagno quindi sbrighiamoci allora Jared intanto sta lavando i piatti penso che abbia appena mangiato Rachel sta giocando al dottore con il sorsacchiotto guardate che carina così le sale anche l'empatia ok Jared sta andando in bagno poi mangia che ha fame volevo fare una cosa però prima di andare a letto portare avanti anche qua l'aspirazione di Jordan perché le manca soltanto di aiutare i bambini a fare i compiti per un'ora per fare i compiti vale anche assisterli in un progetto scolastico quindi Lucas vieni qua anche tu visto che Rachel ah appunto un progetto scolastico mi ricordavo bene che gli è stato assegnato a scuola da fare il sistema solare quindi magari possiamo metterci qua a farlo piazziamolo qua si qua vai che c'entra per cui Rachel basta giocare qui al dottore inizia subito a lavorare attentamente io direi però a questo punto di farci lavorare anche Lucas perché Lucas è vero che non gli piace molto fare i compiti infatti cioè la maggior parte delle volte non li fa appunto però queste cose così tipo fare i progetti scolastici che sono cose più manuali gli piace farle quindi le fa volentieri così almeno recuperiamo un po' la responsabilità e Jordan quindi viene qui ad aiutare i tuoi figli ah intanto vi volevo far vedere che Rachel ha fatto già un altro di progetto scolastico che è il vulcano dopo magari lo vediamo in azione oh eccola qui che carini tutti qua con il progetto sono proprio curiosa di vedere come viene fuori perché il sistema solare deve essere carinissimo una bella votina oh Lucas intanto ha raggiunto il livello 2 di abilità mentale bravo vedete come così sta salendo la responsabilità a tutte e due vedete è leggermente meno rossa chissà se riusciremo a mantenerlo su questa buona strada o diventerà invece tutta tutta rossa la responsabilità di Lucas Jared ce la fai a farmi l'ultimo dipinto prima di andare a letto si stai benissimo dai perché ne manca solo uno per completare questo step facci questo dipinto su ne facciamo uno astratto piccolino ah ok me l'ha già dato non me l'ha comparsa la notifica però ha guadagnato lo step qua della pietra migliare bravo Jordan penso che adesso gli rimanga praticamente solo l'ultimo step consegui il livello 10 di abilità genitoriale stiamo a 6 entri in modalità genitrice completa e fai in modo che un figlio abbia 3 tratti di valori carotteriani positivi ah questo sarà difficilotto da avere da fare forse ci riusciremo con con Rachel ma si dai con Rachel possiamo riuscire con Lucas la vedo un po' difficile intanto qui abbiamo finito il sistema solare che carino oh ma funziona vediamo un attimo si bravi avete fatto un ottimo lavoro dai osserva il progetto vediamo un po' com'è venuto tra l'altro qualità buona è brava ah ma finisce qui non ruotano i pianeti non so se è perché in qualità buona forse se lo facevamo eccellente veniva un po' più carino invece questo è eccellente di qualità infatti inneschiamo la reazione chimica guardate che carino c'è proprio l'eruzione della lava eh questo è buono però speravo che venisse meglio beh facciamo così mettitolo nell'inventario poi magari una volta lo rifacciamo fino a che non viene di qualità eccellente a questo punto però eh sì andiamo a rompere qua ai vicini perché se no non riusciamo a dormire Jordan vai pensaci tu batti sulla porta perché i bambini devono andare a dormire cioè sono pure le undici e mezza di sera e domani devono andare a scuola mannaggia se no così non ci riescono poverini insomma voi basta con tutto questo chiasso vediamo chi uscirà fuori da qua ragazzi intanto Jared hai finito hai dipinto un qua sì ragazzi e anche con lui ce l'abbiamo fatta a completare la pietra miliara adesso ci manca solo l'ultimo step conseguire il livello 10 di pittura e noi siamo a 8 e passare 5 capolavori perfetto insomma lei è sempre lei sempre Lexi Brown che esce così in accappatoio ehi ma scusami è lei che si lamenta con noi ehi ci vivo anch'io qui mi distraio se la tua vita è una noia perché non te ne vai a Long Bar o provi a spossartela un po' anche tu cioè lei ci sta dicendo questo ma scusami ma siamo noi che ci dobbiamo lamentare non te eh vai vai se ne torni dentro grazie e infatti vedete che non hanno proprio un bel rapporto mannaggia vabbè adesso però dovremmo riuscire a dormire sì ok allora mandiamo tutti a letto visto che appunto è tardi e poi ci rivediamo direttamente domani dopo la scuola perché con Lucas mi manca appunto da raggiungere l'abilità 10 motoria e volevo farlo nell'episodio di oggi così praticamente riusciamo a far salire di un gradino nelle loro aspirazioni tutti e quattro quindi con un episodio siamo andati un bel po' avanti per cui domani mando i bambini a scuola e poi magari facciamo che il pomeriggio chiamo il club di Lucas quello compagni di scuola e ce ne andiamo un po' a lanciare a canestro magari da qualche parte intanto c'è Jordan che si è alzata presto presto la mattina per preparare il pranzo al sacco per Lucas e Rachel guardate che carina che lei nonostante abbia fame molta fame perché è tutto qua sul rosso pensa però prima a preparare da mangiare per i suoi bimbi eh sì perché infatti vuole proprio avere l'aspirazione di super genitrice quindi guardate com'è contenta che prepara da mangiare a loro e poi mangerà anche lei intanto Jared oggi va al lavoro sì direi che ce lo mando può darsi pure che riceve una promozione dai Jared ecco qua il primo pranzo al sacco è pronto brava Jordan i bambini qua come stanno ha un po' fame Lucas allora fai una cosa alzati vai in bagno poi vediamo se riusciamo a mangiare qualcosa al volo ma tanto poi ci portiamo il pranzo quindi facciamo metti nell'inventario così a scuola se ci viene fame ce lo possiamo mangiare sta preparando l'insalata di tonno mi sembra sì sì qualità eccellente è diventata veramente brava Jordan a cucinare e Rachel vediamo un po' anche lei ha fame e ok si è appena finisce qua Lucas dove è Lucas doveva andare in bagno ah ok ci sta andando ha fatto un giro enorme non so perché va bene oh ecco qua anche il secondo pranzo al sacco è pronto e a questo punto Jordan direi che ti sei proprio meritata la tua colazione vediamo se c'è qualcosa di pronto già sì c'è quella le uova col pancetta quindi vai mangia e poi prepara anche un bel caffè per quando si alza già perché lui la mattina la prima cosa che fa è proprio bersi un bel caffè per ricaricarsi dalla per svegliarsi un pochettino ecco sì Luca sei un po' di fame allora mangiati al volo qualcosa ma velocemente magari un bel piatto di cereali e poi a pranzo a scuola ti mangi quello che ti ha preparato Jordan ah fa due cose contemporaneamente prepara il caffè mentre mangia Jordan super multitasking brava però dai dai il caffè è pronto puoi anche metterti qua Rachel vieni a prenderti il tuo pranzo al sacco e vediamo se anche con te facciamo in tempo magari a farci dei cereali veloci Jared mi sa che è ora di svegliarsi che altrimenti non fa in tempo a fare colazione qui quindi uuuuh fai figli fighi con Jordan appena sveglio vieni Jared prima prenditi un bel caffè anche tu ah se l'hai preso anche Jordan beh giustamente l'ha preparato lei dai Rachel finisci qua di fare colazione e vai subito a scuola bravissima anche tu eccolo qua vedete Jared la prima cosa che fa un bel caffè bravo vieni qua a sederti vicino a tua moglie ah ecco qua un bel caffè la mattina per svegliarsi ci vuole tutto Jared si si lo mandiamo al lavoro perché mi sa proprio che arriva la promozione succede volontariato musicale mentre Lucas è seduto insieme alla classe durante un'assemblea l'insegnante di musica chiede un volontario anche se l'insegnante sta guardando proprio lui Lucas si accorge che il bambino accanto è impaziente di salire sul palco Lucas deve approfittare dell'occasione o mandare l'altro bambino ma dai no mandiamo l'altro bambino Lucas si siede mentre l'altro bambino sale sul palco e sembra piuttosto imbarazzato quando gli viene chiesto di improvvisare qualcosa con il bongo prima però che Lucas possa ridire l'insegnante di musica chiama anche lui per suonare un accompagnamento con il bastone della pioggia non è nemmeno uno strumento vero va bene vediamo un po' come ci è rimasto per questa cosa no niente di particolare ok ci hanno chiamato da scuola lotta col cibo Rachel ha iniziato una lotta col cibo nella mensa scolastica come Rachel questa cosa me l'aspettavo più da Lucas incoraggiando la gran parte degli studenti a partecipare stiamo ancora rivolendo una leader per natura influenza l'empatia oppure dovrebbe aiutare a pulire influenza la responsabilità eh beh no conoscendo Jordan sicuramente questo è quello che direbbe dovrebbe aiutare a pulire quindi abbiamo la responsabilità di Rachel che aumenta e diminuisce però il controllo emotivo ok ecco qui i bambini sono appena tornati da scuola e Rachel è tornato a casa ah sia Lucas che Rachel entrambi hanno un progetto scolastico Lucas i voti sono aumentati Lucas ha lavorato solito e ora è uno studente dell'elementare da 10 ottimo lavoro wow nonostante lui non faccia praticamente mai compiti è arrivato a 10 come è stato possibile probabilmente perché appunto i progetti scolastici danno parecchio come voti quindi lui siccome l'ha fatto è stato premiato anche per questo avete capito un po' cioè Lucas riesce a cavarsela nonostante non faccia i compiti questa non è affatto male come cosa guardate che poi gli ha comparso il mood colmo di amore non c'è niente di meglio di un succulento pasto cucinato in casa e teneramente riposto in un sacchetto di carta marrone e anche Rachel se l'ha mangiata ed è stata molto contenta mi capito Lucas dai Jordan allora direi che bisogna anche premiarlo quindi dagli un bel bacetto visto che è tornato a casa vediamo un po' ecco chiedite la scuola prima perché appunto visto che ha preso questo bel voto così Lucas glielo racconta ma perché ci chiama tutta gente che io non conosco ma che vuoi dicevo dai Lucas racconta così a Jordan che ha preso questo bel voto almeno è contentissima vediamo se c'è anche tipo ecco incoraggia il comportamento recente incoraggia i bevoti dai Jordan Lodalo che questa volta se l'è decisamente meritato e poi vabbè ovviamente anche Rachel anche se lei sta ancora a 7 però è anche più piccola quindi ha iniziato da poco ad andare a scuola quindi dai chiedite la scuola anche a lei oh ecco vedete com'è contento Lucas che è stato rosato dalla mamma bene e bascia sulla guancia e intanto Lucas visto che è stato così bravo facciamo che Jordan gli permette di andare appunto a giocare in strada con i suoi amici per cui se non sbaglio proprio qui sotto c'è ecco appunto la pallacanestro quindi facciamo così vieni qua Lucas e ti chiami poi i tuoi amichetti del club perché praticamente poi resta solo Lucas per migliorare la sua aspirazione a tutti gli altri ci siamo riusciti oggi ecco brava magari Rachel fatti aiutare proprio da Jordan a fare i compiti quindi vieni qua ci mettiamo i compiti sul nostro bel tavolinetto fai i compiti e chiedi a Jordan una mano che te la dà volentieri vieni qua Jordan ecco qua si mette subito a fare i compiti e Jordan l'aiuta ok invece andiamo a vedere Lucas eccolo qui che è arrivato quindi prima che ecco qualcuno già ci ha preso oh tra l'altro Veronica e Jack vabbè ci lasciate posto a noi bambini per favore si restiamo qui eh vorremmo giocare anche noi dai cerchiamo un attimo scusate presentazione amichevole così magari li facciamo un attimo staccare da qua e ci possiamo giocare noi con il canestro ecco qua sono arrivati i nostri amiglietti si abbiamo iniziato il raduno dovrebbero arrivare a breve dai dai perché con il raduno poi attivo saliamo anche più facilmente in abilità motoria oh lui è stanco poverino vabbè la facciamo così eh tiro di allenamento insieme ok è arrivato Manuel ah ecco forse perché c'era Veronica perché ha accompagnato Manuel può darsi che era così eccoli qua bravi voi due mettetevi qua a chiacchierare e lasciate un po' di spazio ai bambini su su eccoli sono arrivati tutti quanti bravo Lucas così arriviamo e proprio la completiamo la sua d'aspirazione quindi ragazzi io credo che tra poco insomma diventerà adolescente prima tocca a Manuel perché lui è un pochino più grande quindi facciamo crescere prima Manuel magari nel prossimo episodio e poi quando torniamo di nuovo da Jordan e Jared facciamo crescere anche Lucas che ormai è tempo appunto di crescere ci siamo oh wow Veronica ammazza è bravina oh Lucas senti sei stancato no dai 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 vieni qui che ti manca poco per arrivare a 10 forza forza poco poco e ce l'abbiamo fatta raggiunto il livello 10 di abilità motoria aspirazione conseguita e no non gli diamo una nuova aspirazione perché appunto tra poco diventa adolescente quindi gli daremo una da grandi a questo punto direi che poverino lui è stanco e puzza sì che giustamente ha anche giocato quindi terminiamo qui il raduno ciao ragazzi ci rivediamo poi a scuola domani torniamo a casa e a questo punto ragazzi direi proprio di terminare qui l'episodio di oggi spero che il video vi sia piaciuto se è così mettete il like mettete anche mi piace alla mia pagina facebook per rimanere sempre aggiornati noi ci rivediamo presto nei prossimi video ciao